Coltivava piante di cannabis nella sua abitazione, 41enne finisce in manette. I militari della locale stazione Carabinieri, al termine di un mirato servizio volto alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno scoperto nel comune di Somma Vesuviana, all'interno di un immobile, una vera e propria serra dove erano coltivate ben 44 piante di cannabis. Nel corso della prequisizione sono stati rinvenuti e sequestrati anche 467 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana già pronta per la vendita. A finire nei guai un 41enne incensurato del luogo, arrestato per detenzione e coltivazione di droga. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.